Si incalzano una battaglia con Giusellofi a non carli dietro ai casi. Giusellofi erano un altro politico religioso judaico che lottava per l'indipendenza del regno judaico, rivellandosi con le armi alla presenza ronale palestina. Fanno parte di questa prima zona, il Toscatone, la Barca Aveda sul lago di Siberia, dalla battaglia, lo sovalizio, la coppia innamorata e altre rappresentazioni di vita quotidiana del senso. La zona centrale del prefe è piena di attività attorno ai giresolenti, dominata dall'indipendenza del suo tempio con la protesta di Foglia ed in primo piano da un altro palazzo ronoroso. Davanti alle torte della città, assieme alle figure di molti lavori, Fabro, Arrofino, Gataio, Maniscalco, vi sono personaggi da Fiera, dopo i Fieri, i camionani di Pellegrini che forstano in preghiera per esempio nella città. Davanti a una torta principale di Canisarelli, in un figlio greco sta ultimato da Stato dedicato all'imperatore operiano a Cristo, primo imperatore umano. Mentre ai bordi di questa, un maestro insegna ai fiori...